Abbiamo recentemente concordato con l'azienda 6 l'attivazione di un progetto di spazzamento meccanizzato suddividendo il territorio comunale affinché si ottenesse una apertura integrale in due macro aree Cavriglia-Montegonzi-Vacchereccia in una giornata e la restante parte nella stessa settimana. Tutto questo volto a ottenere due risultati, l'effettività, l'efficacia e l'efficienza di servizio in modo tale ciascuna frazione, avendo un territorio così rappresentato, fosse coperta e in modo tale si avesse anche un occhio attento a che i costi non li evitassero in modo tale che non si esigano stretti a ribaltarli.